La donna è stata accoltellata dallo suocero ieri giovedì 4 gennaio in una stanza del suo centro estetico situato in via Vibo a Torino. La donna, ricoverata a San Giovanni Bosco, è stata sottoposta a un lungo intervento e ora pare fuori pericolo. L'uomo ha colpito la nuora verso l'ora di chiusura, in una stanza sul retro con un coltello da cucina. La donna ha riportato tali profondi sul collo e sul volto. L'uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile e interrogato nella notte, alla fine ha confessato. Il gesto potrebbe ricondursi al sospetto che la nuora avesse un amante e il desiderio di vendicare il figlio. L'uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo radiomobile.